La lotta per un'informazione libera è una delle principali battaglie del Movimento 5 Stelle. Purtroppo da quando siamo entrati qui dentro abbiamo riscontrato dei grossi problemi con la RAI, che a nostro avviso è totalmente asservita ai poteri forti e ai partiti in questo Paese. Non lo diciamo soltanto noi, lo dicono i dati dell'osservatorio di Pavia, che nell'ultima settimana di marzo, li ho qui con me, parlano chiaro e dicono che il 45% degli spazi è stato assegnato al Partito Democratico e a Renzi, che svolge il doppio ruolo di segretario e presidente del Consiglio e purtroppo furbescamente sfrutta gli spazi che gli vengono dati da presidente del Consiglio per farsi campagna elettorale per le prossime europee. Per questo noi abbiamo deciso, dopo un richiamo alla Tarantola, di fare anche un esposto all'Agicom, perché dobbiamo assolutamente liberare la RAI dai partiti.